Benissimo, se siete pronti per divertirvi in compagnia del vostro DiabloTex si va avanti su Crisis Core Final Fantasy VII Reunion quindi ovviamente lo ripeto sempre in versione PlayStation 5 andiamo avanti andiamo avanti e credo che anche qui in questo gameplay sarà strutturato sulle missioni secondarie credo proprio di sì perché ci sto prendendo gusto ad ottenere dei premi quindi andiamo avanti con le missioni secondarie questa la faremo più avanti perché ancora sono all'altezza forse di affrontarla e quindi andiamo avanti qui abbiamo fatto giusto e al momento non si sblocca ancora nulla quindi andiamo qui a caccia di oggetti ok a caccia di oggetti vediamo un po' miniere di carbone esaurite abbiamo ottenuto informazioni riguardanti dei mostri che essi aggirano nelle miniere di carbone c'è la possibilità che tu possa trovare gli oggetti preziosi al loro interno vai a investigare una coda di fenice ragazzi che bello poi è di livello una stella quindi non dovrebbe neanche essere più impegnativo più di tanto insomma è però andando avanti allora via almeno abbiamo anche qualche nemico un po diverso che arriva qui in battaglia e noi siamo giustamente siamo contenti io sono contento poi non so voi ma io lo sono e anche tanto è bene ottimo così abbiamo un forziere da trovare credo che ecco credo che non sarà difficile trovarlo ma si sapeva che era così ragazzi quindi ci mancherebbe ah ok ok via divertiamoci mi raccomando ragazzi voi divertitevi lasciate un like se vi fa piacere allora io questo gioco veramente me lo sto godendo come si deve non so voi ma io me lo godo la grande allora poi amo tutta la saga di final fantasy quindi da sempre da sempre quindi e adesso cosa vogliamo creare qui cosa vogliamo combinare ditemi un po ok va bene va più che bene conflitto risolto sì ma la missione non è conclusa ecco forse qui adesso andiamo a concludere la missione no un attimino ok vabbè queste missioni di livello 1 diciamo che non dovrebbero creare grossi problemi anzi forse non dovrebbero crearne affatto quindi un attimo che sistemavo le cuffie ok coda di fenice missione compiuta e va bene così va benissimo in questo modo allora tutto sommato non stiamo andando male quindi possiamo continuare sì a caccia di oggetti preziosi sblocca la missione numero 2 che io credo che fino a 3 stelle le possiamo fare 4 stelle bisogna un attimino ripensarci due volte quindi delizie dell'isola deserta abbiamo ottenuto delle informazioni sui mostri comparsi sull'isola disabitata parti subito e raccogli quante più informazioni possibile potresti anche trovare gli oggetti utili chi lo sa possiamo provarci sicuramente ci proverò non è un problema di certo non mi tirerò dietro diciamo ecco di certo non mi tirerò dietro quindi voi dite che mi tirerò dietro io ma no le missioni vanno affrontate a testa altissima quindi non mi pongo il problema assolutamente il problema non me lo pongo affatto allora risolto in parte perché la miss per concludere la missione ci manca ancora un po è di qui no dobbiamo andare da questa parte qui si si non ti preoccupare che adesso vi faccio vedere io quello che vi farò e lo vedrete aumento di livello ignis giustamente va benissimo si si ecco qua un critico da 7,98 non so se mi spiego eh bracciale ciocobo ecco questo adesso andiamo a vedere subito se equipaggiarlo o meno vediamo se equipaggiarlo oppure no adesso vediamo insomma vediamo un po la cintura vitale con i allora cintura vitale dov'è qui e no bracciale ciocobo mi no mi abbassa i parametri no assolutamente no non mi interessa ecco qui a caccia di oggetti preziosi sblocca la missione numero 3 che essendo sono due stelle possiamo continuare sono apparsi dei mostri nei bassi fondi devi eliminare la minaccia prima che qualcuno rimanga ferito vorremmo anche che tu ispezionarsi a fondo l'area circostante ok qui otteniamo salto che poi andiamo a vedere un po di cosa si tratta comunque adesso andiamo avanti e divertiamoci uh tre forzieri quindi qui la situazione si fa impegnativa qui la situazione si fa veramente impegnativa ragazzi e beh si fa molto impegnativa ma è giusto che sia così eh uh zack sale al livello 12 non so se il livello massimo sarà 50 o 99 lo scopriremo andando avanti nel gioco adesso voi non mettetevi fretta perché questa è una cosa che non vi deve interessare al momento ma ha ottenuto scatto ragazzi ottenere scatto non è male no non è male una cosa che a noi fa piacere quindi o almeno a me fa molto piacere a me personalmente quindi diciamo che va veramente bene in questo modo allora cosa facciamo bene state buoni qui abbiamo un po da girare allora innanzitutto riprendiamo un po di energia qui perché la situazione stava sfuggendo un po di mano e leggermente di mano stava per sfuggire quindi conflitto risolto ok ma la missione è conclusa a è conclusa però non ho trovato i tre forzieri che poi magari poi magari beh no ragazzi voglio farlo in vostra compagnia che vado a trovare i forzieri quindi ripetiamo la missione ma giusto per una una forma di rispetto che ho nei vostri confronti che voglio trovare questi forzieri in vostra compagnia ecco perché è giusto che sia così e non è che è giusto che sia così ragazzi è giustissimo ok andiamo da questa direzione perché di lì avevo subito raggiunto insomma la battaglia finale che si da una parte c'è pure contenti però dall'altra no perché mancano i due forzieri non mi sembra corretta la situazione di di non andare a prendere i due forzieri che restano insomma io voglio condividere tutto con voi ragazzi quindi uhlala ah senti il dolore allora e beh ecco qui secondo forziere e allora la strada giusta da fare da questa ragazzi e beh era questa e non quello ho sbagliato direzione vabbè sono cose che succedono non ci interessa eh non è finita la missione dobbiamo trovare un altro forziere state buoni poi torneremo verso il problema è trovarlo questo terzo forziere perché il problema è trovarlo ragazzi è io torno a te no qui si va alla fine della missione quindi eccolo qui ragazzi ma guardate dove l'ha messo guardate dove l'ha messo ma siamo veramente a una gran pozione tutto questo casino per una gran pozione va bene se dobbiamo fare questo casino per una gran pozione diciamo che siamo tutti contenti va bene siamo tutti contenti allora sì sì equipaggiamento è di materie credo che ne ho abbastanza eh ah ne ho due a livello master però qui abbiamo un ignis che di magia è più 3 ed ha due stelle quindi a questo punto questo è a livello 9 master ed è 2 quindi ci sono delle materie che sviluppano di più in pratica vediamo un po' eh ok energia non lo tolgo no assolutamente assolutamente non verrà tolta ragazzi eh beh allora caccia di oggetti preziosi ehm sì livello 3 possa provare ad affrontarla siamo stati informati della presenza di mostri nelle caverne vogliamo un'indagine accurata come ricompensa potrai tenere tutti gli oggetti che troverai materia oscura per 2 qui è interessante ragazzi e qui è veramente molto interessante la materia oscura mi piace mi piace mi piace mi piace veramente molto allora abbiamo un solo forziere da trovare che credo non sia neanche complesso anche perché un livello è una missione abbastanza breve da come sembra sembra scusatemi sembrerebbe una missione abbastanza breve è un po' ovviamente adesso io qui ho equipaggiato altre materie quindi avendo equipaggiato altre materie sono da livellare ed essendo che sono da livellare potrei avere dei problemi per queste che sono missioni di livello 4 però detto questo insomma ce la possiamo cercare di gestire nel miglior dei modi si spera siamo arrivati già alla fine ragazzi vediamo un po' qui no ma dai riproviamo dopo di che ragazzi se se qualcosa va storto insomma e la situazione qui è un po' delicata devo dire è un po' delicata però io giustamente tenterò a portare a termine questa missione la prossima dobbiamo cambiare un attimino per ok ce l'ho fatta ce l'ho fatta sono riuscito quindi due materie oscure chissà di cosa si tratta chissà di cosa si tratta ragazzi adesso andiamo a vedere un attimino è perché qui le materie oscure poi non è detto che andrò ad equipaggiarle ecco allora vediamo un po' materie di sostegno scan materie indipendenti quindi ok pratiche magiche quindi quelle oscure dove sono 16 materie su 999 ah no forse se ne possono portare massimo 999 ok comunque qui abbiamo anche la fusione materie che sarà una missione sarà un verrà sicuramente sbloccata andando più avanti con la storia allora equipaggiamento ho ottenuto delle materie oscure però il fatto che ragazzi qui bisogna potenziarle perché magari questa è di livello 5 ed è più 3 magari potenzio questa che è uguale e mi va più 4 cioè un qui veramente si tratta che devo livellare molto comunque comunque allora no questa è di livello 4 non se ne parla per adesso quindi no non se ne parla no di livello 4 anche questa quindi andiamo qui zack il cacciatore di materie vediamo un po' rinuncita con ifrit in seguito alle analisi della materia che hai ottenuto dopo il tuo combattimento contro ifrit siamo riusciti a intrappolare la creatura molto probabilmente riuscirai a ottenere delle materie rare raggiungi immediatamente l'aria uh materia di ifrit ragazzi un nuovo personaggio verrà e beh e allora qui è da fare e senza problemi è veramente senza problemi uh terra infuocata quindi non ci sono forzieri da da prendere però ifrit lo voglio veramente aggiungere subito la mia lo voglio aggiungere alla mia selezione di personaggi e quel che è insomma vabbè ragazzi ma qui è semplice perché comunque è di livello 1 quindi anche se facciamo una rivincita contro ifrit insomma avremo sicuramente la meglio e almeno dal mio punto di vista sembrerebbe che sia così vediamo un po' un po' di danno l'ha fatto comunque conflitto risolto ma che bello ma che bello ma allora ifrit fa ora parte dell'omd è disponibile una nuova abilità limite oh fiamme infernali fiamme ma vabbè io aspetto anche il bamut prossimamente comunque aspetto veramente anche il bamut ragazzi allora modalità invocazione ottenendo una materia di invocazione l'omd potrebbe passare in modalità invocazione tutti i personaggi dell'omd vengono sostituiti da immagini specifiche legate alle invocazioni se vengono estratte tre immagini uguali sarà possibile utilizzare l'invocazione equipaggiata utilizza l'abilità limite modalità invocazione l3 più r3 e vabbè dovrò ricordarmi sperando che sperando che questo succederà perché ricordarmi un po' tutto la vedo la vedo un po' dico missione andiamo qui ok ok siamo stati informati della presenza di una materia nascosta nel nido di un fulmi fulmico doni ok raggiungi l'isola in cui viene e recupera la materia fulgor e vabbè che facciamo andiamo ragazzi secondo voi non andiamo? cioè secondo voi io mi tiro dietro non vado in missione? magari alcuni di voi possono dire che le missioni secondarie sono ripetitive io ve le porto ugualmente ragazzi anche se sono ripetitive ve le porto tutte ne sono 300 300 me ne porto non c'è problema non so quanti gameplay saranno ma non mi interessa ve le porto e basta dove andiamo? ma il forse... ah il forziere è qui beh ne abbiamo soltanto uno quindi... è una missione molto breve ah abbiamo un'altra volta questo soggetto qui sono in tre ma non è che cambia la... la sostanza non cambia ecco quindi la sostanza ragazzi non cambia ah ok me lo dice lì che devo premere L3 più R3 proviamo vai proviamo via beh Ifrid e Ifrid ragazzi è inutile... inutile dire il contrario eh come il BAMUT e il BAMUT non è che... il BAMUT e anche il BAMUT vabbè si sapeva che avrei distrutto tutti quindi missione compiuta bene molto molto bene andiamo ancora in missione però non so eh no non ce ne sono più ragazzi non ce ne sono più qui eh allora sapete cosa vi dico che andiamo un po' avanti con la storia principale sei pronto a partire per il tuo incarico? certo al momento sono pronto sì sì così sembrerebbe che andiamo ancora in E dillilo direttamente Se sei coraggioso Zaki glielo puoi dire Non aver paura dai Non aver timore Non aver paura dai Si conoscono da molto tempo Mi volete mettere alla prova allora No ma sono molto più forte Ci mancherebbe Mi vogliono mettere alla prova Non c'è problema Io sono qui appunto per Per essere messo da prova ci mancherebbe Ci mancherebbe ragazzi Allora Si si Allora ma casa bene esplora banora ok io posso anche esplorare non c'è problema sono venuto da qui io giusto no vediamo un po adesso andiamo avanti ragazzi e tranquilli e che voglio ammirare anche il dettaglio qui perché a voi non sembra ragazzi ma il dettaglio c'è quindi allora andiamo avanti sì perché no qualche mostriciattolo può arrivare fuori no è veramente non si combatte ok ho capito che sono molto più forte però dai ho capito che sono molto più forte però va bene così eh va benissimo in questo modo ok tranquilli e qui ce la ridiamo adesso è io me la rido perché tanto questi qui sono debba lordi ma ce la possiamo gestire sì non c'è problema ma andiamo avanti comunque al livello di respawn i nemici ci sono arrivano quindi se vogliamo fare un po di soldi o qualcosa un po di guill quindi si può fare la situazione fattibile ovviamente non è che ne danno chissà che però insomma ecco adesso io questa mania di livellare che lo farò per fatti miei perché giustamente sì ok tranquilli va bene così va bene così uhlala combattimento risolto beh lo dice forte e chiaro allora allora ragazzi a questo punto salverò la partita qui la mia partitina non so la missione se sia durata abbastanza oppure no missioni secondarie al momento non ne abbiamo devono essere sbloccate insomma quindi allora 5 per cento e voglia qui a fare a raggiungo ok e beh comunque ragazzi da fare ne abbiamo tanto allora vediamo un po apposta cosa mi dice ti hanno dato un incarico a banora vero che posto è ho sentito che c'è un sacco di gente della scinra la sembra che l'economia del villaggio si basi sulla produzione la lavorazione delle mele per il resto si mantiene grazie a sovvenzioni della scinra perché mai a lasciare interessa un villaggio così piccolo che abbia a che fare con la maco oppure c'è qualcosa che non mi convince approfondirò la faccenda va bene va benissimo allora salviamo salviamo la mia partitina adesso non so a che punto siamo comunque va bene va bene così ragazzi allora il vostro diabotec si chiude qui questo episodio il quinto episodio per quanto riguarda crisis core final fantasy 7 reunion io vi ringrazio di cuore a tutti vi do appuntamento con i prossimi gameplay restate qui sul mio canale vi ringrazio veramente di cuore per il supporto perché vi assicuro che sto tornando a registrare ma non è stata una situazione molto semplice quindi grazie veramente di cuore a tutti e spero di non deludervi se vi fa piacere lasciate un like ed un commento e ragazzi appuntamento con i prossimi video un abbraccio dal vostro diabotec restate sul mio canale perché ci divertiremo ciao